L'annata di lavoro era finita, era ora di tornare a casa. Da poche settimane un gruppo di operai era impegnato nel servizio di disboscamento a 1800 metri di quota sopra la diga di Fusino, a Grosio, in provincia di Sondrio, con una teleferica. Ma il gancio, che serviva a trascinare i tronchi, è precipitato e il cavo ha travolto due uomini, entrambi quarantenni, di origine romena. È successo ieri sera, verso le 7. I due erano entrati nel cantiere a recuperare alcuni attrezzi. All'improvviso i loro colleghi hanno sentito il rumore della struttura che crollava, un impianto di 200 metri ancorato agli alberi. Per ragioni che ancora non sono chiare, il cavo della teleferica si era spezzato investendo in pieno uno di loro, che è morto sul colpo. Il corpo lo hanno recuperato a fatica, i tecnici del soccorso alpino della Valtellina impegnati fino a notte, sul luogo dell'incidente, con vigili del fuoco e carabinieri. L'altro operaio è stato portato via in elicottero, ora si trova nel reparto di neurochirurgia e grave ma cosciente, ha un ematoma che non gli permette di parlare e per il quale i medici non possono ancora sciogliere la prognosi. La teleferica è sotto sequestro, i macchinari sono di una ditta svizzera specializzata in taglio e trasporto legna. Gli operai, tutti romeni, avevano preso il lavoro in subappalto. Una strada completamente abusiva nel centro di Roma, un paradosso di burocrazia tra botteghe artigiane di grande pregio, case mai denunciate e sfratti non eseguiti.